E' polemica in questi giorni per alcuni comuni della Piana del Sele, in particolare quelli di Battipaie ed Eboli, che alzano la voce contro il progetto ANAS finanziato dal Cipe, riguardo alla bretella di collegamento stradale veloce tra l'autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria, Eboli-Campania e la variante alla strada statale 18, Agropoli. La bretella collegherà direttamente l'autostrada ad Agropoli, escludendo di fatto le due città della Piana del Sele. Il progetto taglia completamente fuori la Piana del Sele dalla rotta di turisti che raggiungono il Cilento, con una ricaduta negativa sull'economia locale, dichiara la sindaca di Battipaie a Cecilia Francese. Dello stesso parere anche il sindaco della città di Eboli, Massimo Carillo. Ad essere invece favorevole al grande progetto è il sindaco cinentano Franco Palumbo. Sì, alla nuova bretella tra il Cilento e la Piana del Sele, che diventerà la strada della dieta mediterranea, un fiore all'occhiello per l'intero territorio. È assolutamente anacronistico ritenere che tale progetto, di una portata elevatissima sotto più profili, non rappresenti una fonte di crescita per quest'area. E' questa la posizione dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum, in merito all'idea della Regione Campania di realizzare una bretella di collegamento stradale, alternativa alla strada statale 18 tra il Cilento e la Piana del Sele, oggetto di polemiche nei giorni scorsi, soprattutto in alcuni comuni della Piana del Sele. Siamo favorevoli ad un'arteria che fluidificherebbe gli ingressi e le uscite stradali verso quest'area strategica, a sud della provincia di Salerno, sottolinea il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo. Tale progetto è importante sotto diversi punti di vista, perché in primis regolerebbe flussi veicolari, causando meno disagi soprattutto ai residenti, e consentendo alle merci prodotte nel territorio di viaggiare più speditamente verso i luoghi di consegna. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da altri sul depoveramento della statale 18, con la nascita della nuova bretella, crediamo che, liberata dal traffico dei residenti che si spostano verso i luoghi di lavoro e dalle merci che viaggiano verso i luoghi di consegna, la statale 18 diventerebbe una vera e propria strada dell'eccellenza.